Agriturismi, punto di forza del turismo abruzzese. Si registra tuttavia un leggero calo stando ai numeri diffusi dall'Istat relativi all'anno 2022. In regione si contano 586 aziende agrituristiche attive. Di queste 482 svolgono anche l'attività di alloggio per un totale di 6.193 posti letto. I dati relativi a due anni fa sono contenuti nel report le aziende agrituristiche in Italia redatto dall'Istat. I numeri sono sostanzialmente stabili rispetto al 2021. La variazione del dato complessivo è pari al meno 0,3%. Gli agriturismi abruzzesi rappresentano il 2,3% del totale italiano. La maggior parte è situato in collina segue la montagna con 206 strutture. Non vi sono invece agriturismi in pianura. A gestire le attività sono 308 uomini e 278 donne. 75 agriturismi offrono solo il servizio alloggio, 326 quelli che offrono alloggio e ristorazione e 245 quelli che invece offrono alloggio e altre attività. Per quanto riguarda i servizi, alcune strutture offrono solo il pernottamento, altre pernottamento e prima colazione, oppure mezza pensione, fino alla pensione completa. Le 415 aziende che offrono il servizio di ristorazione hanno a disposizione 14.461 posti a sedere. Sono infine 296 le aziende che offrono altre attività. Si va da quelle vari allo sport generico, dall'equitazione alle fattorie didattiche, dai corsi alle mountain bike, fino all'escursionismo e alle osservazioni naturalistiche. Del resto, il paesaggio abruzzese rappresenta la cornice ideale per poter vivere un soggiorno a contatto con la natura, degustando i prodotti della terra.